Siamo qui con Mr. Dossena al termine di Provercelli Trento 2-0. Mr. un primo tempo complicato, terminato sullo 0-0 e poi un secondo tempo dove abbiamo trovato subito i due gol nei primi dieci minuti. Sì, un primo tempo che forse ce lo siamo un po' complicati da soli perché sapevo che il Trento sarebbe venuto a prendersi cercando di ridurre un po' la nostra mode di gioco. Sotto l'aspetto della grinta, dei contrasti vinti, erano più bravi e lasciavamo giù troppe palle perse. Non è che abbiamo rischiato tantissimo nel numero di occasioni che ci ha creato il Trento, però non siamo stati in grado di, prima di tutto, di fargli del male e di produrre il nostro gioco. Eravamo abbastanza lenti, soffrevamo un po' la pressione, mentre invece nel secondo tempo vuoi un po', perché magari possono aver calato un po' la tensione loro, la condizione fisica, vuoi un po' che i due gol hanno cambiato l'inerzia della partita. Si è vista la solito Provercelli, veloce, che prova sempre ad offendere, cambi di fronte, buon ritmo, buone giocate. Quindi i due episodi ci hanno permesso di portare a casa il risultato. Infatti i due episodi abbiamo visto altri due gol arrivare da palla inattiva, sia il gol di testa di Maggio che il bel gol di Rodio. Sì, è stato un... adesso non mi ricordo quanti gol abbiamo fatto su palla inattiva, però le abbiamo battute bene, anche le successive siamo stati sempre pericolosi, potrebbe anche essere un'arma in più nel nostro arco. Grazie mister. Grazie.